Lezione A04 Le interazioni raggi X I fotoni che attraversano il paziente possono essere assorbiti, diffusi o trasmessi. Quando un fotone X viene assorbito dal paziente tutta la sua energia viene trasferita ai tessuti circolari. Quando invece il fotone X viene diffuso si ha una maggiore variazione della sua traiettoria con conseguente riduzione della propria energia. Da tenere presente che questo tipo di fotone è responsabile del peggioramento della qualità dell'immagine in quanto non ne riducono il contrasto. Un fotone X trasmesso è un fotone che attraversa il paziente senza interagire con le sue strutture biologiche e che interagisce direttamente con il sistema di rilevazione dell'immagine. La maggior parte dei raggi X utilizzati in radiodiagnostica vengono assorbiti o diffusi al paziente. Solamente l'1% della radiazione che incide su di lui lo attraversa senza interagire con le sue strutture biologiche. Quindi dobbiamo tenere presente che la radiazione in uscita dal paziente è costituita da quei fotoni che non interagiscono e quindi vengono trasmessi e dai fotoni diffusi. Meglio lo vediamo in questa diapositiva dove appunto viene ben evidenziato che la radiazione in uscita dal paziente è costituita da raggi X trasmessi e diffusi. Vediamo che cosa intendiamo per attenuazione. Per attenuazione di un fascio X si intende la riduzione della sua intensità, ovvero la rimozione di parte dei fotoni che lo compongono. Questo fenomeno è dovuto a una completa o parziale perdita di energia da parte di alcuni fotoni che compongono il fascio X incidente i quali vanno a interagire con lo stesso. Pertanto l'assordimento e la diffusione caratterizzano il processo dell'attenuazione di un fascio X. In particolare l'assorbimento determina una perdita completa di energia da parte di un singolo fotone X, mentre la diffusione comporta una perdita parziale di energia, di norma accompagnata da una variazione della direzione di propagazione da parte di un fotone X. Dobbiamo tenere presente che l'interazione e l'attenuazione dei raggi X può avvenire con cinque diverse modalità. La diffusione classica, l'effetto Compton, l'effetto fotoelettrico, la produzione di coppie e la fotodisintegrazione. La diffusione classica è un'interazione fra un fotone a base energia e un atema, in cui il fotone incidente non perde la sua energia ma cambia solamente la direzione, per cui la lunghezza d'onda del fotone incidente e del fotone diffuso è la stessa. Nella diffusione classica, il fotone incidente interagisce con un atomo persaglio al quale cede la sua energia, portandolo quindi ad uno stato eccitato. L'atomo persaglio, che si viene a trovare in una situazione instabile, riceve immediatamente questa energia in eccesso, sotto forma di un fotone di lunghezza d'onda e quindi di energia uguale a quella del fotone incidente. La direzione del fotone secondario è diversa da quella del fotone incidente. Il risultato finale del fenomeno è pertanto la variazione della direzione del fotone senza la perdita di energia. Quindi nella diffusione classica non c'è una perdita di energia da parte del fotone X e non si ha ionizzazione dell'atomo persaglio. In radide agnostica il fenomeno ha poca importanza, perché interessa fotoni a bassa energia, cioè con un'energia interi radici Kemp. Questo tipo di fotoni tuttavia contribuisce a creare la cosiddetta velatura dell'immagine, ovvero un sottofondo grigio del radioramma causato da fotoni che non portano con sé nessuna informazione utile. L'effetto Kemp, invece, è l'interazione tra un fotone di energia moderata e un elettrone orbitale esterno che produce la ionizzazione dell'atomo colpito, una variazione della lunghezza d'onda e quindi una riduzione d'energia da parte del fotone emergente che ha anche una direzione diversa. Pertanto, nell'effetto Compton, il fotone incidente interagisce con un elettrone in orbitale esterno e lo espelle dall'atomo che risulta quindi ionizzato. Il fotone emerge in una direzione differente da quella originaria, ma con un'energia inferiore. L'energia del fotone diffuso, infatti, è uguale alla differenza tra l'energia del fotone incidente e l'energia ceduta all'elettrone espulso. Sia il fotone diffuso che l'elettrone secondario possono avere un'energia sufficiente per dar luogo a molte interazioni ionizzanti, prima di perdere tutta la loro energia. Infine, il fotone diffuso sarà assorbito per effetto fotoelettrico, mentre l'elettrone espulso sarà captato dalla lacuna di un orbitale atomico. Vediamo alcune caratteristiche dell'effetto Compton. La probabilità che un fotone subisca un'interazione Compton, pur essendo una funzione complicata dell'energia del fotone, ci consente di dire che in realtà la probabilità che si verifichi questo fenomeno diminuisce il crescere dell'energia della GX. Inoltre la probabilità dell'interazione Compton è quasi indipendente dal numero atomico dell'atomo versaglio, nel senso che ogni fotone ha la stessa probabilità di subire un'interazione Compton sia con un atomo di tessuto mole che con un atomo di tessuto osseo. Inoltre la diffusione Compton può venire a tutte le radia di radia di agnostica e per questo è un fenomeno da tenere costantemente sotto controllo, tenendo presente che come abbiamo detto le radiazioni diffuse e quindi i fotoni Compton devono essere ridotti il più possibile. I due grafi G ci dimostrano come la probabilità di interazione di un fotone che si sta negli atomi del tessuto molle, grafico A, che del tessuto osseo, grafico B. E questa probabilità aumenta, diminuisce all'aumentare dell'energia del fotone. L'effetto fotoelettrico è un effetto in cui il fotone in incidenza è totalmente assorbito nella sua totalità in seguito all'interazione con un elettrone di un orbitale esterno. E questo elettrone orbitale, normalmente a livello K, che ha detto fotoelettrone, è eliminato dall'atomo che risulta quindi ionizzato. Il fotone incidente quindi nell'effetto fotoelettrico viene completamente assorbito dall'atomo e la sua energia è interamente ceduta ad un elettrone appartenente ad un orbitale interno. Questo elettrone, chiamato fotoelettrone, successivamente riassorbito dal mezzo, viene espulso dall'atomo che quindi si ionizza. L'espulsione dell'elettrone, e solitamente si tratta di un elettrone dell'orbitale K, provoca un buco elettronico che viene riempito da un elettrone appartenente ad un orbitale superiore, con conseguente produzione di radiazione caratteristica. I raggi caratteristici, la cui energia è pari alla differenza dell'energia dei legami degli orbitali coinvolti, costituiscono la cosiddetta radiazione secondaria, che ha un comportamento analogo alla radiazione diffusa, cioè non forniscono alcun contributo diagnostico alla formazione di maglie. L'effetto fotoelettrico è innanzitutto un fenomeno soglia, nel senso che può avvenire solo se il fotono incidente possiede un'energia uguale o superiore, più probabile se prossima, alla energia dei legami dell'elettrone bersaglio. L'effetto fotoelettrico presenta queste caratteristiche. La probabilità che si verifichi è inversamente proporzionale alla terza potenza dell'energia del fotone ed è direttamente proporzionale alla terza potenza del numero atomico dell'elemento assorbitore. Tutto questo lo ritroviamo nei due grafici in cui vediamo la probabilità di verificarsi dell'effetto fotoelettrico nel tessuto molle e nel tessuto osseo. L'altro meccanismo di interazione della GX con la materia prende il nome di produzione di coppie. La produzione di coppie riguarda fotoni che hanno un'energia superiore a 1,2 Meb. In questo tipo di interazione il fotone incide con il campo di forza del nucleo per creare due elettroni che hanno una carica elettrica differente. In questo tipo di interazione il fotone incidente sfugge all'interazione con la nuova elettronica dell'atomo e arriva abbastanza vicino al nucleo così da risentire l'influenza del campo di forza nucleare. Questa interazione con il nucleo provoca la scomparsa del fotone che si materializza in due elettroni. Uno di carica positiva chiamato positrone ed uno di carica negativa che è l'elettrone. Si tratta di un fenomeno soglia in quanto si realizza per fotoni che hanno un'energia almeno di 1,1,2 Meb. E questo perché? Perché essendo l'energia equivalente di massa di un elettrono a riposo pari a 0,51 Meb, perché il fenomeno si realizzi, l'energia del fotone deve essere pari a 0,51 per 2. Perché 2 sono le particelle create e quindi un'energia almeno pari a 1,02 Meb. Tutta l'energia eccedente, questo valore, viene distribuita in uguale misura tra le due particelle sotto forma di energia cinetica. Poiché il fenomeno si realizza solo con raggio X di energia superiore a 1,02 Meb, questo fenomeno non si verifica in radio diagnostica e quindi non verrà preso in considerazione. La fosodisintegrazione è una interazione tra un fotone di alta energia normalmente superiore a 10 Meb e il nucleo. Si tratta di un tipo di interazione in cui il fotone scompare e il nucleo espelle un frammento nucleare. I fotoni ad alta energia, cioè con un'energia superiore a 10 Meb, possono sfuggire all'interazione con la nupo elettronica o con il campo di forza del nucleo per essere assorbiti direttamente al nucleo stesso. In questo modo il nucleo viene a trovarsi in uno stato di eccitazione e nel ritornare allo stato fondamentale emette istantaneamente un nucleone o un frammento nucleare. Questo processo prende il nome di fotodisintegrazione e poi coinvolge solo raggio X con energie superiore a 10 Meb, il fenomeno, così come la produzione di coppia, non ha nessuna importanza nel senso che non si verifica in radio diagnostica. Pertanto, dei cinque modi di interazione ai raggi X con la materia, solo due hanno particolare importanza nel fenomeno dell'attenuazione ai raggi X, l'effetto Compton e l'effetto fotoelettrico. Inoltre, ai fini della formazione dell'immagine, è importante tenere presente anche la quota dei raggi X che vengono trasmessi dal paziente, ovvero che non interagiscono con le sue strutture. I raggi X che provengono dalla diffusione Compton non danno alcune informazioni utili, ma producono una velatura che consiste in una perdita di nitidezza dell'immagine sul radio ram. In altre parole, le radiazioni di fusia determinano annerimenti del rilevatore d'immagine che non forniscono alcuna informazione diagnostica, ma danno solamente quello che viene chiamato in verbo un disturbo. Quando i fotoni Compton o diffusi interagiscono come il rilevatore d'immagine, quest'ultimo li considera nello stesso modo dei fotoni che giungono direttamente al tubo radiosimo, cioè dei fotoni trasmessi, perché il rilevatore non ha la capacità di discriminare tra fotone diffuso e radiosione primaria. Per ridurre questo tipo di pelatura e questo tipo di disturbo si usano tecniche e dispositivi, come per esempio determinate combinazioni di parametri tecnici di esposizione, ma anche l'utilizzo di determinate filtrazioni, la viaframmatura del campo di esposizione, la compressione, la righeppe, la griglia antidiffusione. Tutti sistemi che hanno lo scopo di ridurre la quantità di radiazioni diffuse che possano giungere sul rilevatore d'immagine. I fotoni invece che subiscono un'interazione fotoelettrica forniscono un'informazione diagnostica. Poiché questi fotoni vengono assorbiti e quindi non raggiungono il rilevatore d'immagine, essi consentono di evidenziare quelle strutture anatomiche che sono caratterizzate da un elevato assorbimento di raggi X, le cosiddette strutture radiopaghe, come ad esempio l'osso. In altre parole, l'assorbimento fotoelettrico genera le aree chiare del radiogramma, sono le cosiddette aree a bassa densità ottica. Al contrario, quei fotoni che penetrano nel corpo e sono trasmessi senza avere alcuna interazione, generano le aree scurde del radiogramma, cioè le aree ad elevata densità ottica. Per esempio il polmone. L'attenuazione dei raggi X è condizionata da una serie di fattori tra i loro combinati, come il numero atomico del tessuto, la sua densità, il suo spessore e l'energia della radiazione. Tutti questi fattori influenzano l'immagine radiologica in quanto al crescere dell'energia dei raggi X aumenta il numero dei fotoni trasmessi, cioè diminuisce l'attenuazione. Aumentando la densità, il numero atomico e lo spessore, diminuisce invece il numero dei fotoni trasmessi ed aumenta l'attenuazione. Vediamo in che modo l'attenuazione dei raggi X è condizionata dal numero atomico del tessuto e dall'energia della radiazione. Teniamo presente che un'immagine radiografica è il risultato della differenza fra la quantità di raggi X assorbiti per effetto fotoelettrico e quelli non assorbiti del tutto. Questo valore prende il nome di assorbimento differenziale. Pertanto l'assorbimento differenziale della radiazione è legato alla probabilità relativa di interazione della radiazione per effetto fotoelettrico. Quindi l'assorbimento differenziale aumenta se si diminuisce il valore del chilovottaggio, situazione questa in cui è più probabile che si realizzi un'interazione fotoelettrica. Sfortunatamente, diminuendo il chilovottaggio, è necessario incrementare il valore del miliamperaggio e quindi un incremento della dose al paziente. Ricordando che la probabilità di assorbimento fotoelettrico è proporzionale alla terza potenza del numero atomico del materiale assorbitore, per l'osso questa probabilità di interazione fotoelettrica è circa sette volte maggiore che per il tessuto molle. La probabilità relativa di interazione fotoelettrica fra osso e tessuto molle, e quindi il cosiddetto assorbimento differenziale, rimane all'incirca costante, mentre la probabilità assoluta diminuisce all'aumentare l'energia, in quanto è inversamente proporzionale alla terza potenza della energia. La diffusione Compton è indipendente dal numero atomico del materiale assorbitore. Le probabilità di tale fenomeno per gli atomi dell'osso e del tessuto molle sono quindi uguali. Anche la diffusione Compton diminuisce con l'aumento dell'energia dell'AGX, ma questa diminuzione non è così rapida come quella che si ha con l'assorbimento fotoelettrico. Infatti la probabilità di diffusione Compton è circa inversamente proporzionale alla prima potenza dell'energia. A bassa energia la maggior parte dell'interazione ai raggi X sono fotoelettrici, mentre ad energie più elevate predomina la diffusione Compton. Naturalmente quando aumenta l'energia dei raggi X, ovvero quando aumentiamo il kilovoltaggio impostato, diminuisce la probabilità totale di interazione e la radiazione, per cui in questo caso un numero di raggi X raggiungono il rilevatore di immagine e di conseguenza minore sarà la quantità dei fotoni, quindi di 1000A necessari, per produrre un determinato annerimento. Tutta questa situazione la possiamo condensare nel grafico rappresentato, che mostra la probabilità di interazione fotoelettrica e Compton con il tessuto molle e il tessuto osso. Le intersezioni e le curve indicano le energie dei raggi X alle quali la probabilità di assorbimento fotoelettrico è uguale alla probabilità di diffusione Compton, tenendo presente che per basse energie prevale l'effetto fotoelettrico, mentre per altre energie si ha una prevalenza dell'effetto Compton. Vediamo come l'energia della radiazione condiziona l'attenuazione dei raggi X. Variando l'energia dei raggi X si modifica la capacità di penetrazione del fascio. I raggi X di energia più elevata, che vengono ottenuti con elevati valori di kilowatt, hanno una maggior capacità di penetrazione ed una minore probabilità di attenuazione. Riguardo alla densità, per densità intendiamo la quantità di materia per unità di volume, di solito espressi in grammi per centimetro copido. La probabilità di interazione ai raggi X è proporzionale alla densità del tessuto irradiato. Quando questa densità raddoppia, raddoppia l'interazione dei raggi X, poiché c'è un numero doppio dei rettoni nel tessuto irradiato. Relativamente allo spessore del tessuto, l'aumento dello spessore del tessuto determina l'incremento del numero di raggi X che vengono attenuati, o per assorbimento o per diffusione. Naturalmente i fattori di esposizione tecnica, mAh e kV di picco possono essere impostati in modo da compensare i diversi valori tessutali. In ultimo accenniamo al fatto che l'attelazione ai raggi X può essere modificata dall'uso dei mezzi di contrasto. Che cosa sono i mezzi di contrasto? Sono delle sostanze che presentano un numero atomico e una densità differenti rispetto a quella dei tessuti circostanti e che quindi consentono una variazione del contrasto dell'immagine. Le sostanze che sono dotate ad un elevato potere di attenuazione, tipo il bario e lo iodio, sono definite mezzi di contrasto ad ariopalchi. Le sostanze con un basso potere di attenuazione, come l'aria, sono chiamate mezzi di contrasto radiotrasparenti. Grazie.